Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Qua chi è? Filippo. Oggi sto qui insieme a due miei amici di nome... Isabella e Bensì sono ritornata in un nuovissimo video e li farò insieme a lui. E? E Oscar. E Oscar che anche io sono ritornato. E anche lui ha un canale YouTube. Raga, guardate la mia camminata. Che stupietta, la mia camminata. Ma io ti vedo normalissima, la cammini senza muodarsi. Cioè guarda, guardate, sono questa pescata. Aspetta che ti faccio un trade. Guardate ragazzi che cos'ho. Eh io questa qua, vi do dei trucchetti. Allora, prima di tutto dovete andare da qualcuno che vi sembra così. Io praticamente vado da questo. Eh ma ora stai iniziando film. Ok, adesso dobbiamo... Ok, scegliamo, scegliamo. Questa, questa, questa è bellissima. Questa qua è stupenda. Sì. Ok. Speriamo che stavolta sono io. Devo un attimo declinare. E' la prima, è la prima. Raga, sta qua fa troppo paura. Ma non fa paura. E' una... Raga dove siete? Io sono all'uscita, all'uscita dove c'è l'acqua. Io ho visto Fillo. C'è, ho visto... Eccovi. Ok, dovete mettervi qua. Almeno se arriva il killer. Dopo... No, se... Guardate il mio outfit, ragazzi. Uguale a quello di Roby. Però forse adesso mi chiamerò... Eh... Philip Polar Cat. Cat. Philip Polar Cat. E io Isabella Polar Cat. Ok. Ok, andiamo di qua. Guardate ragazzi, ci sono dei segreti in questo posto in cui nascondersi. Dovete andare sotto, qua sotto, qua dentro. Dovete venire qua. Ecco, seguimi. Entrate qua dentro e c'è un nascondiglio. E poi andate qua e qua c'è un altro nascondiglio qua in mezzo. Il killer è qua. E ci si può nascondere anche qua dentro. No! Mi ha ucciso! Entriamo dentro il ve... No, 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 no! Vieni con me, Isa, vieni con me! No, aspetta, ma dove? Vieni con me, vieni con me, vieni con me! No, mi sta... Salvatemi! No, vabbè, mi sta... No! Eh, no, 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 no! No, sto per morire, sto per morire! Sto per morire anch'io? Anch'io, anch'io... No! Sto morto! Sto morto! Sto morto! Beh, almeno... Perché Rip di nuovo? Ok, ho Jason! Allora, qua... Ok, guardiamo gli altri. Allora, adesso possiamo guardare Oscar. No, ok! Oscar, vai da quello là, da quello là sotto, che almeno ti salva, ti salva! Devi andare vicino a qualche personaggio che ti salva, sbrigati! Perché sennò ti ammazzano! No, no, così praticamente non fa niente, solo se sei lontano! No, vabbè, sbrigati! Devi andare da quello là sotto, quello là sotto, lo vedi? Almeno ti salva, sbrigati! Vai, salvalo! Ecco, ti ha salvato, vedi? No, 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 no! Che è successo? L'ho ammazzato! Il kill... No, il killer ha lasciato il gioco! Il killer ha lasciato il gioco! Aspetta, questa... Ma qua è entrata Elisa! No, no, no! Io non ti do niente, eh! In cambio di qualcosa! Del... Del... Va bene! Accetta! No, ma che cosa! No, che bello! Bello sto qua! Però così non avrò niente... Ok! Grazie! L'hai... L'hai avuta? Sì, grazie! Killer! Che belli! Adesso ho 109 punti! Prima il piede è sbagliato Oscar... No, no, no! Ha un Ted Mansion! La palude! La palude! La palude! Guardate, stanno votando tutti qua! Ok! Speriamo che sono io! Ti prego! Incrociamo le dita! Esatto, sono tutti tuoi iscritti! Ok, ragazzi! Il killer è capitato questo! E c'è già il te-killer! Che paura! Eccovi! 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 Devi salire! Dove cavolo sei? Jeff the killer è qua! Isa! 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 Qua! 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 Eccovi! Io sono io! Saltate su questo macigno! Saltate su questo macigno! Poi venite! E abbassate! Ecco il macigno! No! Ma no! C'è proprio la povera Elisa! Ok! Ce l'ha fatta anche lei! Scrive una cosa in chat! Io non prendo la gomma! No! Hanno già ammazzato qualcuno! Ragazzi! Chi? Chi? Eccolo! Devo darlo a salvare! Io vado a salvarlo! Il killer dove c'è campeggio! Sì! Perché c'è uno filo e uno filo! Filippo! Vabbè non importa! Devo salvarli poveri! Poveretti! Vado io! Mi sacrifico! No! Non lo faccio! Ah! Ah! E là il killer! Just the killer là! E là! E là! E là! Eccoli! Sono andato! Ah! Non lo faccio! Non lo faccio! Non lo faccio! Non lo faccio! Vai grandi! Ora correte la lancia! Isa! Ci hanno ammazzato! Ah! Fliiii! C'è un nascondiglio perfetto! Vieni con me! Venite! Seguitemi! Ahia! Dovete scendere qua sotto! Scendete qua sotto! C'è un nascondiglio! E' pettato che... E' già un killer da me! Ti hanno ucciso! E' già un killer da me! Ti ha ucciso! Ah! Ah! Aiuto! No! No! Mi hanno ammazzato! Aiutatemi! Grazie Oscar! Ah! Ah! Iiii! Aiuto! No! No! Mi ha ucciso! Corri! 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 Ma cosa? Ti prendo io Oscar! Ti aiuto io! Qua! 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 Guardaci! Ah! Ah! No! No! Di nuovo! Elisa aiutami! Hanno ucciso anche Elisa! No! 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 Aiutatemi! Vengo io! Elisa! Però resta là! Resta là! Elisa! Sbrigati! Sbrigati! Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Dov'è? Grazie Oscar! No! 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 No poca! No poca! No pochissima! No! Non ce l'ho fatta! No! Vabbè! Ragazzi! Sono morto purtroppo! Eh sì! L'abbiamo visto ma è morto di brutto! Qua perché ci sono due porte così? Ma ne ha vinta una questa qua ma proprio mi fa schifo e scarsa quella cosa lì la... Da voi essere io che io sono fortissimo! Me la scordiamo! Beh! Ormai le mie fanno schifo perché... Da quando l'ho data... Ma quella ce l'ho già! Da voi tridetti il titanio! Oscar! ecco scegliamo next school ragazzi il killer è oscar il killer è oscar guardate qua che brutto questo no dove sei però a noi due non ci devi ammazzare quella è la regola è la regola è la regola non ci devi ammazzare subito appena ho ammazzato gli altri però dai secondo me vincerei una bellissima allora possiamo cercare pit non cercare pit che l'ho visto come? ho visto qualcuno di nome pilcon dai ti prego aiutami te aiutami grazie scappa scappa grazie grazie che mi ha salvato ok guardati dietro no dai scappa ma io non ti ho toccato io non ti ho toccato te lo giuro non schiacciato niente stai di fianco a me te lo giuro no non ti ho toccato niente no non ti ho toccato niente salvatemi ma è su te no ti volevo ti volevo mamma oh mamma mia ho preso una cosa bellissima guarda come corro no per favore sai è la vita isabella è super veloce lo sai isabella è super veloce lo sai isabella è super veloce lo sai faccio tu sopra la tua e la giurata è che c'era qui non mi frega niente elisa scappa eccoci qua ragazzi abbiamo scelto papà pizzeria tipo e poi qua dove siete voi siamo qua adesso eccomi ecco ti Isa sei là ma c'è il killer da qualche parte ti sento sì ha ucciso qualcuno c'è uno di ha ucciso qualcuno povero no no ci hanno ammazzato sì hanno ucciso elisa purtroppo aiuto no salvatemi eccoci Oscar ok rianimo elisa oh che ce l'ho fatta sono scappato sono scappato sono dentro il vent sono morto ma dormo che pizza è là sotto è la sanna ecco di noi Isabella eri là eri lì vicino a me però non l'avevo fatto in tempo eri già morta vabbè vabbè fa niente vi guardo no no ma è piacissimo aspetta aspetta no 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 è vicino ma tu sei morta Filippo no ah ok ok per aspetta sono mia eccoci qua Filippo corri 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 no è più bene ah ok Filippo che ero morto no sono morto eh raga eh se ne ripendi come cosa da usare o se ne è morto tra due minuti vado no è ok chiedi tra un po' finisce il video qualcuno è stato ucciso ma è stato reanimato ma è un panino delle donne nooo mi hanno ucciso no 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 ok grazie no c'è un no arrivo 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 grazie aspetta che arrivo anche io nel bagno delle femmine no sono morto no io no io ora non sono vivo purtroppo dobbiamo chiudere il video quindi ragazzi se il video vi è piaciuto lasciate un sacco di piace e noi ci vediamo al prossimo video ciao salutate ciao 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 ciao